Il messaggio che vorrei che questa titolazione passasse per tutti e tutti voi è che mio padre era una persona normalissima, un tipo veramente normale, che si è messo insieme a delle altre persone normali e insieme a persone normali hanno fatto cose straordinarie, perché questo è il segreto della vita secondo me, che ci sono dei sogni che nessuno di noi da solo riesce a cambiare il mondo, a costruire dei sogni giganteschi, ma se ci mettiamo insieme gli uni con gli altri e cominciamo a discutere del nostro sogno, anche le cose che sembrano impossibili poi diventano possibili e anche abbastanza rapidamente se ci si mette un po' di impegno e si sogna forte, per cui io vorrei che vi facesse dei sogni molto forti. Vola la porto io, a porto io, vola via, vola via della terra mia, che è la terra dell'amor Ma a porto io andò dal leggo, ma il leggo disse no, a porto io, vola via, a porto io, vola via Sono i conti che io porto, sono i conti delle zappe, i rotondi di neonarmi, con più il rompo del canto Dove vola a porto io, a porto io, vola via, vola via, la terra mia, che è la terra dell'amor Ma a porto io andò dai, vola via, la porto io, vola via, la porto io, vola via, vola via, la porto io, vola via, la terra mia, che è la terra dell'amor Cambiate il mondo e costruite per voi stessi e per i vostri figli e nipoti un posto che sia un pochino più bello da vivere E io spero di essere ancora qui per guardare il mondo bello che avete costruito per noi. Grazie Grazie